catabolismo, scongiura, discomunica da parte della chiesa e rischio malattie infettive lì ero sotto la media, il mio prof di storia si allenava con me, era un signore di 50 anni spancavamo ma proprio ignoravamo, forse adesso non sto dicendo, non devo neanche spiegare che non è giusto magari fare gli esercizi in modo scorretto, ma non me ne fregava niente spancavamo in modo ignorante, è l'approccio mentale che cambia, la tecnica poi arriva scottavo più pesante di ora, avevo 8 anni di meno, io lì mi allenavo da pochi mesi e mi ricordo che adesso vorrei rivedermi, vorrei avere dei video, a me tiravo su 110 kg di squat per 12 ripetizioni per 4 serie, avevo appena iniziato, ero 65 kg, non so che cosa facessi, io vorrei rivedere quel movimento, però ora, adesso lo rifaccio più lento, con un controllo muscolare differente, è molto più pesante di prima, però li facevo capito? ma in realtà non è più pesante perché i 110 kg sono sempre 110 che porti, da giù a su è la predisposizione in funzione della tua modalità esecutiva di contrazione muscolare il muratore non è che non è forte, il muratore quei pesi li solleva, non li fa in maniera funzionale alla crescita muscolare, ma il peso lo solleva, se un muratore porta due sacchi di cemento sta sollevando 100 kg, punto, che poi non siano finalizzati a far crescere i muscoli, ma li sta sollevando pesano più 100 kg sollevati male o sollevati bene, come pesa più 1 kg di piume o 1 kg di sicuramente il carico interno è maggiore, come direbbero i sapienti, la percezione è diversa si, si, più lento, ma ora anche con 5 kg, con la mind muscle connection di 10 anni di allenamento, mi sento, ai tempi magari facevo un po' più di swing, facevo un po' più di cheat e questa è la prova di come il giusto ambiente ti dà tanto